La strada che porta il Montalfano verso il traguardo della prima categoria è ancora l'astricato di ostacoli, anche se i punti che occorrono per avere la matematica certezza del salto di categoria sono sempre di meno. La truppa di Mister Liberatore è cosciente di avere a portata di mano l'obiettivo agognato, ma per festeggiare è necessario superare prove importanti di maturità. I gialloverdi montalfanesi vanno a far visita all'ostica odorisiana, formazione di Monteodorisio che può vantare un pubblico davvero appassionato, oltre che una squadra di primo piano guidata in panca da Ercole Marrocco. A dispetto dei tanti nomi importanti che figurano nelle due compagini, la gara sarà dominata dall'eccessivo tatticismo che manda a benedire i propositi di Belgioco che saranno nell'occasione merce molto rara. E in effetti per allestire un servizio filmato che possa raccontare l'andamento della sfida abbiamo avuto delle grosse difficoltà per selezionare qualche azione che possa definirsi tale e in mancanza d'altro dimostriamo quanto segue. Nel primo atto gli unici a calciare verso la porta senza peraltro creare grossi acuti sono i biancoverdi di casa che ci provano al 14esimo con l'ex di turno gentile, il cui Siluro dalla distanza si spegna a lato senza pericoli reali per la difesa odorisiana che non rischia neanche sulla successiva girata dal limite di Marcellino Vitelli abbondantemente fuori misura. Al 27esimo ci prova Zerra che scatta sul suggerimento in avanti di Eugenio Vitelli ma viene fermato al momento della finalizzazione mentre nel proseguo dell'azione Smerigli e Vetta non si intendono rischiando di rimettere tutto in discussione. Prima del riposo segnaliamo il tentativo di Enzo Marrocco che approfitta di un pallone carambolato sul direttore di gara per tentare in vano la sortita dal limite. Nella seconda frazione il clima soporifero che attanaglia le due contendenti rimane pressoché immutato anche se va dato atto al Montalfano di maggiore intraprendenza. Al nono il colpo di testa di Difoglio termina docilmente tra le braccia dell'attento dei Filippis. Il cronometro scorre via senza che la gara riesca a decollare. Gli sbadigli sono interrotti alla mezz'ora dal traversone in area di Carlucci bloccato da De Filippis che può far sgranchire i guantoni. Al trentaseiesimo sul lungo rilancio di Vetta Zerra prova in vano ad illuminare la sua gara con un tentativo di pallonetto che non sortisce effetti significativi. Stesso discorso per la bordata di Spadaccini che si alza sul fondo. Nelle battute conclusive si rivede anche l'Odorisiana che ci prova col neo entrato Colonna ma anche per Smerilli la domenica pallonara si conferma di assoluto relax. Ercole Marrocco il tecnico dell'Odorisiana che oggi ha fermato la battistrada. Un buon risultato per voi, la gara però non è stata bellissima, anzi i due portieri potevano anche prendere il sole se c'era oggi perché sono stati non impegnati. E' stata una partita molto molto tattica, loro se stanno primi non è che ci stanno primi perché gli hanno regalato i punti o perché no, meritano una squadra di tutto rispetto. Partita tattica, faccio complimenti ai miei ragazzi perché l'hanno interpretata come volevo io, quindi non ho niente da dire alla mia squadra. E' un punto per noi che muove la classifica e come quando stai qua sotto purtroppo devi sempre muovere la classifica e oggi l'abbiamo mostra, nel nostro piccolo l'abbiamo mostra. Però faccio complimenti anche a Montalfano perché è una bella squadra, merita di vincere questo campionato, l'ha dimostrato sul campo. Nonostante voi siete la seconda squadra di Montedoriso perché l'altra è il Montedoriso gioca in prima, tra l'altro una sua ex squadra, voi avete comunque molti tifosi appassionati e molto caldi. Secondo me questo è tutto merito della società perché sono stati bravi a coinvolgere anche i ragazzi del paese, infatti oggi sono visti ma sono tutte le domeniche, ci seguono, ci seguono, veramente fanno sacrifici con i propri soldi, non viene fidanzati da nessuno e le ringrazio perché è il dodicesimo uomo in campo per noi. Poi ripeto, è tutto merito della società perché è riuscita a coinvolgere i ragazzi e coinvolgere il paese così indostalmente. Sinceramente erano molti anni, mi hanno allenato anche la prima squadra di Montedoriso, tra cui faccio i complimenti pure al ministro Scadini, sta facendo un bellissimo campionato. E veramente non mi aspettavo questa tifoseria così a nostro seguito, complimenti anche a loro. Sante d'Alberto, padrono del Montalfano, oggi arrivano buone notizie da altri campi, qui a Montedoriso avete raccolto un punto contro un'ottima squadra, lo dicevo anche con il mister avversario, non è stata una bella gara per chi ama il bel calcio? Ma non è stata assolutamente una bella partita, però l'odorisiana, io lo dico dall'inizio del campionato, è una clamorosa assente dalla lotta alla vittoria del campionato e alla lotta play-off, perché l'odorisiana mi ha impressionato anche all'antate, ho detto che era una delle migliori squadre che esistono. Quindi per noi oggi è un punto guadagnato, non sono due punti persi, perché questa è la trasferta più difficile di tutto il campionato. Adesso si torna a giocare a Montalfano, ogni giornata può essere quella buona per avere la matematica, manca veramente pochissimo? Ma non manca tanto, in virtù anche del risultato di Gissi di oggi, la sconfitta contro il Real Montalfano sicuramente ci agevola il percorso. Adesso abbiamo due partite che sulla carta non sono partite difficili, ma comunque che dobbiamo giocare, perché Castelfrentano e Carunchio 2010, nonostante la sua posizione di classifica, possa far sperare in un risultato semplice. Così non sarà, ce la giocheremo fino alla fine, perché comunque ogni partita ha una sua storia.